Produrre acciaio di qualità significa costruire un futuro migliore per le persone e le nuove generazioni. Utilizziamo prodotti in acciaio in ogni momento della nostra vita, per mangiare, per muoverci, per lavorare o per divertirci. L'acciaio è al 100% riciclabile e può essere fuso infinite volte senza perdere le proprietà intrinseche. Il ciclo produttivo di Duferco, Travi e Profilati, che inizia nell'acciaieria di San Zeno e si perfeziona nei laminatoi di Pallanzeno e di Giammoro, è sicuro e sostenibile perché nasce da Rottame, la nostra materia prima. Ridiamo vita all'acciaio per farne ponti e infrastrutture. Siamo un esempio concreto di economia circolare. Un acciaio di qualità, amico del progresso e dell'ambiente. Un acciaio di qualità, amico del progresso e dell'ambiente. Un acciaio di qualità, amico del progresso e dell'ambiente.